Il Sassuolo deve ancora giocare, il Catania deve ancora giocare, l'unica che ha giocato qui le due genovesi, la Sampdoria che è rimasta ferma a due, il Genoa che è rimasta fermo a quattro, Bologna deve ancora giocare e gioca stasera con la Roma, forza Bologna, forza Bologna, Atalanta che deve ancora giocare, Chievo deve ancora giocare, Palma deve ancora giocare, Cagliari, Cagliari, Cagliari giocano a Trieste, io sappiate che sono tutto con voi, oggi tra poco vedrete che mi trasformo per bene, Cagliari in testa alla side B perché non dobbiamo calcolare il vero Il Verona, in quanto il Verona ha sette puni, ne ha come l'Udinese quindi dobbiamo calcolarla già in side A, Dottor Berni capisce? Perché bisogna capirla, la classifica, se la legge lui, lui ti legge tutti i nomi uno per uno, non te la spiega, invece qui va spiegata, la Cagliari, non cagliata, allora quindi in side A, anzi in side B, in testa al momento ci sono i nostri amici del Cagliari che però stasera, prescrittese permettendo, potrebbero trovarsi in side A, comunque, allora, Verona, Udinese le ultime della side A, Poi ancora il Tor, mi dispiace, mi dispiace per i cugini, anche se, se è vero che abbiamo fatto il gol in fuorigioco, però strameritavamo, 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 se volete rigiocarla noi siamo sempre pronti Ma non è la Cagliari che vince i punti, non si viva così Guarda, talmente menti, sapendo di mentire che ti cade di baffio Dillo anche tu, dillo anche tu, meiling, dillo anche tu Cioè, che se, dillo, dillo Che la Juve meritava La Juve meritava La Juve oggi meritava Dillo che se non lo sta dicendo La Juve oggi meritava Vedi che anche meiling con le buone maniere si dice Con il dietifriccio Con il dietifriccio, il dietifriccio fa miracoli Ecco perché lo dovete usare, perché sentite, sentite meiling? Non circuirla Non circuirla Non circuirla Non parle male, le stai facendo male al braccio per obbligarle a dire quello che vuole Mi sono dimenticata Bene, già Vai avanti con la classifica La Juve oggi è meritata Benissimo Potenza del dietifriccio Fabio, lei è seduta e lui è in piedi Andiamo avanti Ieri abbiamo applaudito a un grande ritorno E vi pregherei nuovamente di applaudire anche oggi Lei è seduta Perché dalla side Cosa c'entra? Dalla side B alla side A Abbiamo riconquistato i nostri amici del Milano Un applauso Bravo Per la prima volta Fallo con un po' più convinzione Sono tornati in side A Sono arrabbiato Poi la Livorn Inter che deve ancora giocare E' ferma 8 La Laz Inter che sono amici Tutta, tutta roba Oh no Sono tutti i vari La Laz Inter La Fiorentina La Fiorentina gioca lunedì col Parma Giusto, dottor Ordine? Gioca lunedì col Parma Quindi abbiamo ancora Prescrittese 13 La vediamo adesso Prescrittese Cagliari La vediamo adesso Roma 15 E siamo tornati nel nostro posto momentaneamente in vetta Juventus e Napoli Grazie anche a Rosicata di tutti voi Grazie a Fabio Vieni